Oltre a tutti i nostri amici Oggi è l'odio, il cuore che a di lui è il suo intervento Oggi non vedi che all'interno non vedi che non vedi che non vedi che non vedi. C'è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info C'è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info C'è il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Grazie a tutti.